ciao a tutti l'episodio che vorrei raccontare riguarda un utente che si è rivolto ai nostri sportelli perché gli era arrivata la comunicazione online di aver vinto uno smartphone di ultima generazione al prezzo simbolico di un euro per corrispondere questo euro è stato richiesto di inserire in questo sito i dati della propria carta di pagamento ovviamente lo smartphone non è arrivato al domicilio del nostro assistito in compenso si è visto a debitare sulla carta di pagamento che aveva inserito circa 60 70 euro al mese si tratta chiaramente di una truffa si è ricollegato allo stesso sito per cercare di risolvere il problema cliccando sul link che loro indicavano per disdire questo abbonamento in realtà cliccando su quel link è andato avanti con questo circolo vizioso e si è iscritto a nuovi abbonamenti ecco quello che noi consigliamo in questo caso è di una volta che vi siete accorti di essere stati truffati rivolgervi immediatamente alla polizia postale a un'associazione dei consumatori per essere tutelati non aspettare 6-7 mesi come nel caso di specie perché recuperare soldi in questo caso è molto difficile spesso sono aziende società latitanti non è non è semplice non è rintracciarle quello che possiamo fare è limitare il danno e limitare quelli che sono gli addebiti